Non vi è alcun dubbio al termine dell'incontro tenutosi in videoconferenza tra i vertici del gruppo Presidiad, l'amministratore delegato di Betafence Italia, il sottosegretario del Mise Alessandra Todde, il sottosegretario del Ministero del Lavoro Francesca Puglisi e le sigle sindacali. Infatti il gruppo inglese è intenzionato fino alla fine a ridimensionare la Betafence Italia di Tortoreto, attualmente unica sede nazionale della multinazionale delle recinzioni. La trasformazione sarà netta così da convertire lo stabilimento di Tortoreto di fatto in un piccolo presidio logistico e commerciale, mantenendo solo 25 dipendenti sugli attuali 155. Sul piede di guerra i sindacati, che incassando il pieno appoggio dei rappresentanti ministeriali e la promessa per un nuovo tavolo di confronto, puntano il dito verso l'azienda accusandola di aver portato all'incontro dei dati non veritieri, come spiega Mirko D'Ignazio della FIOM CGL. L'azienda è tornata con lo stesso piano che in qualche modo ci aveva anticipato il 29 luglio, ovvero quello di fatto di chiudere lo stabilimento. Noi abbiamo contestato sia nel merito questa decisione, ma anche i dati che l'azienda ha portato a sostegno di questa scelta, perché a nostro avviso sono dati assolutamente non coerenti con quello che realmente succede nello stabilimento. In questo senso assolutamente incomiabile è lo sforzo che ha fatto anche il Ministero dello Sviluppo Economico nel sostenerci nelle nostre rivendicazioni, nel sostenere le nostre segnalazioni fatte all'azienda. In questo senso il Ministero ha riconvocato l'incontro per la prossima settimana, chiedendo però a Betafens e al gruppo Presidia, che la rappresentava in quella sede, di venire con dati più seri, più concreti, con dati reali e non dati campati in aria, come di fatto è accaduto ieri. Perché a nostro avviso e ad avviso del Ministero dello Sviluppo Economico assolutamente c'è la possibilità che l'azienda torni indietro, ci deve essere la volontà dell'azienda a tornare indietro perché la Betafens di Tortoreto è un'azienda in salute, che produce utili e che non capiamo la ragione per cui debba essere chiusa.